Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video e vi ricordo se già non l'avete fatto di iscrivervi al nostro canale YouTube abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità che escono settimanalmente sul nostro canale. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it dove quotidianamente troverete articoli inerenti il mondo della fotografia, del video e anche le trasposizioni di tutti i video che state vedendo su questo canale YouTube. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di Sirui, vi parlo di lenti anamorfiche e vi parlo del secondo prodotto casa Sirui, il 35 mm, ma prima la sigla. Sirui, abbiamo già visto in una serie di video precedenti sia creati da me sia creati da nostri ambassador la presentazione del 50 mm anamorfico che oramai è già uscita tanti mesi fa ed è stato un prodotto che ha suscitato veramente tanto interesse perché ha dato il grosso valore aggiunto di calare il budget di lenti anamorfiche e dare la possibilità anche ai possessori di mirrorless di fascia definiamola entry level o media rispetto al mondo delle cineprese di poter utilizzare già un formato anamorfico ma non solo un formato anamorfico che molto spesso viene emulato in post produzione facendo i tagli sopra e sotto per avere un rapporto definiamolo Panavision oppure viene emulato il tipico effetto del flare blu molto effetto fantascientifico come in tantissimi film, oramai tanti software di post produzione permettono di farlo in maniera abbastanza veloce. In questo caso hai la possibilità con queste lenti anamorfiche di effettuare queste modulazioni direttamente in camera prima di passare sul sensore digitale della camera stessa. Vi ho già spiegato quindi nel mio primo video sul 50 mm queste caratteristiche veloci e essenzialmente con l'introduzione della nuova lente quindi del 35 mm ma vedremo anche in un video futuro la presentazione del 24 mm anche quello in arrivo a breve nel mercato italiano permette di avere le stesse caratteristiche quindi andiamo velocemente a ripassarle. Le caratteristiche delle lenti anamorfiche sono la possibilità di avere un rapporto di forma molto più stretto e largo quindi un 2,40 a 1, un 2,35 a 1 tipico del mondo Panavision e tipico di atmosfere più cinematografiche. Abbiamo inoltre la possibilità di creare quel tipico effetto flare blu, bluastro molto fantascientifico molto utilizzato in tanti film e telefilm che dà quella parvenza un pochino particolare con queste lenti quindi si ha sempre la possibilità di farlo. Abbiamo anche l'altra caratteristica l'effetto di avere uno sfocato con un effetto bokeh un pochino ovalizzato quindi tutte le fonti di luce che non rimangono nel piano focale dove è totalmente a fuoco rimangono si sfocate ma non formano quel tipico cerchio come si formano nelle lenti tradizionali ma formano un effetto lievemente ovalizzato come potete vedere adesso. Quindi anche il 35 mantiene tutte queste caratteristiche semplicemente il 35 permette di ampliare un pochino di più l'angolo di visione diagonale. Ricordiamoci sempre che sono lenti che si installano che emulano un sensore Super 35 teoricamente sarebbe da calcolare come un 35 per 1.5 indicativamente quindi oltre un 50 mm per le fotocamera PSC o un 70 mm circa per micro 4 terzi. In realtà con il fattore anamorfico quindi l'allargamento definiamola così di un 1.33 circa permette di avere un angolo diagonale circa indicativo come se fosse il 35 realmente con il rapporto di forma molto più schiacciato. Ovviamente sono lenti come il 50 mm che ha possibilità di installare un filtro anteriore qua parliamo di un 67 mm uguale a quello del 50 mm un po' più piccolo di quello del 24 che è un 72 e un'altra caratteristica da notare delle lenti anamorfiche come vi avevo spiegato nel mio primo video è che il piano focale grazie a questa lente che ha questo effetto di distorsione anamorfica fa sì che il piano focale non sia più totalmente parallelo al sensore ma che sia lievemente ovalizzato ai bordi e più la lente diventa grandangolare più questo effetto di spostamento del piano focale verso l'avanti ai bordi è palese ed evidente. Col 35 mm iniziamo quindi un pochino a percepirlo a differenza del 50 che aveva un campo talmente tanto stretto che non si percepeva più di tanto. Questa particolarità è stata utilizzata tantissimo ai tempi nei film western anche utilizzando delle lenti anamorfiche poi dei supporti anamorfici per andare a riprodurre il tutto in cui il soggetto camminava dritto ma rimaneva un po' sfocato nella prima parte a fuoco e si sfocava di nuovo nella parte laterale. Non è il concetto delle lenti decentrabili e basculanti perché lì il piano rimane comunque dritto in questo caso proprio si deforma e si ovalizza quindi il 35 mm permette di avere un pochino di più questa caratteristica. Il punto di messa a fuoco minimo siamo intorno agli 80-85 cm quindi molto simile al mondo della 50 mm il costo è lievemente superiore rispetto al 50 mm anche per via dell'ingegnerizzazione ma anche perché all'interno della confezione abbiamo anche le ghiere dentate per il poter installare il movimento automatico di follow focus sul movimento fluido anche del diaframma stesso. Abbiamo come sempre la sacca di trasporto e in questo caso il 35 mm come viene presentato sul mercato. abbiamo visto il 50 mm che esiste in tre diversi innesti, innesto Sony E, innesto Fuji X e innesto micro 4 terzi. Ovviamente innestandola su Sony E essendo che la Sony ha sia formato pieno sia APS-C vi ricordo sempre che dovete selezionare il sensore o APS-C o comunque super 35 perché la porzione del sensore utilizzata è un super 35. Parlando del 35 mm invece la strategia di Sirui è stata diversa hanno fatto un'unica lente con innesto micro 4 terzi quindi un innesto un po' più piccolo e hanno creato alcuni anelli adattatori di semplicissima installazione come potete vedere ci sono quattro viti viene data in dotazione la chiave a vite a croce per poter svitare e riavvitare comodamente le quattro viti necessarie e non le altre e ve ne accorgerete sicuramente perché hanno un innesto totalmente diverso. Come si fa a installare il supporto? Semplicissimo non dobbiamo andare a smontare niente della lente attuale ma semplicemente andiamo a posizionare sopra il supporto con la baionetta nuova appoggiandola nel punto in cui si va totalmente a bloccare c'è un piccolo pin in metallo che deve andare a coincidere con quello sotto in modo da non muoversi posizioniamo le quattro viti e il gioco è fatto il prodotto si torna a installare con grandissima semplicità quindi io in questo caso ho già installato l'adattatore per sony e non vi accorgete proprio nemmeno della distanza semplicemente c'è un millimetro circa possiamo definire o due in meno rispetto al tiraggio del micro 4 terzi è vero che di primo acchito potrebbe sembrare non tanto comodo andare a installare un anello in questo modo quindi utilizzando le quattro viti però in realtà come avete visto è molto semplice il vantaggio di questo è che se io avessi un corredo video costituito da due diversi brand posso con un'unica lente cambiando solo l'anello adattatore quindi spendendo poche decine di euro andare a utilizzare la stessa lenti per supporti diversi in questo caso il prodotto anamorfico è disponibile quindi come micro 4 terzi nativo come sony e come nikon z e come canon e fm non è presente il formato fuji x il prodotto è già disponibile sul mercato italiano presso i rivenditori autorizzati che vi posto in descrizione se avete dubbi o domande sulla lente informazioni tecniche richiesta di consigli non esitate a porle nei commenti che vi risponderemo quanto prima troverete sull'articolo nel magazine universo foto.it tutte le schede tecniche della lente anamorfica 35 mm vi ringrazio ovviamente di aver visto il video fino alla fine se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità di tutti i prodotti che costantemente continuiamo a presentare che importiamo sul mercato italiano e diamo la possibilità di farvele acquistare tramite un canale di distribuzione ufficiale italiano seguiteci anche su facebook su instagram e date un occhio al nostro magazine online universo foto.it dove escono quotidianamente articoli inerenti il mondo del foto e del video e anche come vi dicevo l'articolo di questo video con la scheda tecnica del prodotto vi ringrazio di nuovo amici e ci vediamo un prossimo video ciao buona giornata